Ok, Murray, il posto è questo. Secondo le mie rilevazioni, l'ingradaggio temporale è nella zona della scogliera. Dovrai scalare quella parete di roccia, ma credo proprio che prima dovrai liberarti di un branco di guardie. Nessun problema! Farò riscaldamento sistemando subito quei brutti ceffi, poi ti riporto il tuo aggeggio. Murray, so che hai deciso di offrirti volontario, ma sei davvero pronto per la scalata? Su via, Bentley! Murray è nato pronto! Ah, Murray, così non funziona, mi sa? Solo un attimo! Ce l'ho quasi fatta! Murray, so che ce la potresti fare, ma ora non abbiamo tempo! Dobbiamo fare in fretta! Metto in atto il piano B! Aspetta, non vorrai... Sì, vado a chiamare Bob! Fantastico! Murray è in panchina! Rilassati, Murray, scalare la sua specialità! E poi dovresti essere orgoglioso! L'hai allenato tu? Perché non te ne torni al covo per uno spuntino? Non ho fame! Wow! Dunque è questo che si prova! Ok, Bob, so che Murray ti ha allenato! È ora che ricominci con le scalate! Premi il tasto cerchio per iniziare! Potrai aggirare gli ostacoli o superarli distruggendoli! Premi il tasto quadrato per colpire la parete! Così potrai abbattere gli ostacoli! Premi il tasto X per saltare gli spazi tra le rocce! Per scivolare verso il basso, tieni premuto il tasto R1! Ok, ragazzone, cerca di indossare quel vinocom! Ehm, sugli occhi! Mettilo davanti agli occhi! Sì, quello strumento permette di vedere a grande distanza! Io non sono davvero dentro! Ma ora non c'è tempo per le spiegazioni! Le rilevazioni dicono che l'ingranaggio è vicino! Da qualche parte! Sopra di te! Ehm, no! Mi dispiace, non sei più vicino! È una lente che le ingrandisce! Continua a scalare! Dovrai saltare oltre quel... Molto bene! Ce l'hai proprio nel... Ciao! Questa è paura! Sopra di te! Questa è un'alto! Questa è un'alto del sol du te viaggio! Di Gettichi! Questa è la sua! Perchè, non! Grazie a tutti. 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 Speravo che lo dicessi. Ecco l'ingranaggio, Bob. Quello pterodattilo femmina deve essersi liberato. Ma rimane l'intorno perché i piccoli sono ancora prigionieri. È tutto ok, li aiuteremo, ma prima dobbiamo riprenderci l'ingranaggio. Mi sembra di sentire Sly. Stai attento a non svegliare lei o i piccoli. Non credo davvero che sarebbe felice di vederti. Speravo. 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 Ok, l'ingranaccio è quasi a portata di mano. Grazie a tutti.